Presidente, questa è una vittoria importante perché quantomeno per il momento vi proietta il terzo posto in classifica. Io non la vedo come terzo posto in classifica, io credo che per noi è importante che siamo messi a dieci punti da loro, che essendo un campionato con una classifica così stretta, i tre punti sono veramente importanti. Ma come lei dice che guarda sempre avanti e adesso guarda indietro? No, no, io guardo davanti e dietro, davanti so cosa significa, però in questo momento noi dobbiamo guardare anche dietro perché il campionato è molto, molto, molto corto. Cosa le è piaciuto di più oggi? L'impegno di tutta la squadra e potevamo sicuramente fare più gol. Loro hanno un portierino veramente bravo, un 94 che ha fatto tre interventi, credo, miracolosi. Il secondo tempo ci siamo espressi nei primi 20 minuti bene e bene. Il secondo tempo meglio del primo tempo e se avesse segnato buon aiuto avrebbe risultato? Io credo che se avesse segnato buon aiuto avrebbe fatto quello che doveva fare ed io ero molto felice perché vuol dire che quello che gli avevo detto era servito a qualcosa. Oggi sono anche soddisfatto per la fase di possesso palla perché comunque è chiaro che ti dà molta, molta solidità in fase difensiva, però io diciamo che stiamo lavorando molto sulla fase del non possesso, siamo partiti sulla fase di possesso palla. Siamo partiti a San Marino che lì abbiamo avuto parecchia approssimazione, soprattutto nel gioco in fase di costruzione. Poi per quanto riguarda invece lo sviluppo e la finalizzazione è chiaro che ci vuole il tempo per assimilare un modulo, però già oggi veramente ho visto un bel gioco che è la cosa su cui come squadra ci teniamo tanto a far bene e poi soprattutto anche ci permette di fare risultati, di dare continuità ai risultati che è una cosa che in questo campionato qua è molto importante. Meglio il secondo tempo del primo, è d'accordo? Primo diciamo che c'è stato un pochettino, dovevamo alzare un po' i ritmi, dovevamo alzare un po' i ritmi. Anche un po' più il baricentro magari? Questo è un modulo che comunque ti porta a giocare un po' con il baricentro più basso, però ho visto la palla che viaggiava abbastanza bene, solo che eravamo un po' lenti e quindi trovavamo sempre una squadra avversaria sempre ricomposta, quindi era difficile trovare gli spazi anche se anche nel primo tempo le occasioni per far gol l'abbiamo avuto. Al fine primo tempo avevamo detto proprio di alzare i ritmi, di andare un pochettino più in percussione, sempre tenendo molto ordine sui movimenti, insomma poi c'è stata anche tanta qualità nel secondo tempo. L'utilizzo di buon aiuto, visto quello che era successo nei giorni scorsi, delle dichiarazioni eccetera, è stato un segnale? Ma no, io ho a disposizione questi giocatori e di conseguenza per me sono tutti utili praticamente alla causa. Io il buon aiuto lo vedo in settimana, si è allenato molto molto bene e io mi devo basare esclusivamente su quello che vedo in campo. Ed è un ragazzo che comunque questa settimana ci ha messo tanta voglia e quindi lo vedevo insomma pronto per darci una mano.